Buongiorno, sono Federico Sollazzo, sono ricercatore e docente di filosofia morale e di filosofia politica in inglese all'Università di Seged e questa settimana parleremo insieme del tema società. Lo faremo in maniera introduttiva e propedeutica, quindi non con pretese di esaustività ma al contrario per invitare all'approfondimento su questo e su altri temi e lo faremo utilizzando prevalentemente i materiali che il re filosofia ci metterà a disposizione. Come punto di partenza io credo che potrebbe essere utile tenere in considerazione per affrontare questo discorso la distinzione ormai classica che nel 1887 Ferdinand Tonnis fece a proposito di Gemeinschaft, comunità e Gesellschaft, società. Distinguendo appunto tra comunità e società, ovvero tra quella forma aggregativa, la comunità che si caratterizza per i legami di sangue, per i legami di tipo affettivo e quella forma aggregativa, la società che si caratterizza per legami di tipo formale e istituzionale. Sicuramente Tonnis in questo fu influenzato anche dal romanticismo tedesco, io credo in particolare da Schleiermacher che già in precedenza aveva identificato la comunità come quella forma aggregativa nella quale le persone reagiscono nella stessa maniera di fronte al mondo e la società invece come quella forma aggregativa nella quale ciascun membro va alla ricerca del proprio utile personale. Facendo un balzo nel tempo poi sappiamo che vari filosofi politici, morali e vari sociologi hanno identificato altri aspetti che possono rendere una società tale, come ad esempio il modello economico o istituzionale in uso in un certo territorio in un certo tempo, o gli aspetti religiosi ed etnici prevalenti sempre in un certo territorio in un certo tempo. Ma a questo punto, come piccolo spunto di riflessione iniziale, io vorrei dare il seguente, ovvero se noi oggi cercando di comprendere cosa rende tale questa società globale che abitiamo e che coincide appunto con il perimetro pressoché dell'intero mondo, cercassimo di prendere in considerazione questi aspetti che ho brevissimamente accennato, come ad esempio appunto il modello istituzionale, economico, l'appartenenza di tipo religioso, etnico e così via, ci troveremmo, io credo, a identificare delle comunità, cioè delle appartenenze che non danno conto di un qualcosa di comune che rende tale tutta la società occidentale, cioè di un filo rosso potremmo dire che nel bene o nel male attraversa tutta la società occidentale. Questo filo rosso, a mio modesto parere, è costituito invece da quel qualcosa che si riferisce a tutti noi e che passa quindi attraverso tutte quelle comunità alle quali ho brevissimamente accennato e che in maniera del tutto propedeutica e semplificativa possiamo definire come razionalità strumentale, razionalità calcolante, razionalità efficientista che indubbiamente deriva dalla tecnica e dalla sua forma storica che è la tecnologia e che inevitabilmente dà luogo a quel fenomeno che possiamo chiamare tecnocrazia con tutto il suo portato di tecnocrati.